Mi sembra doveroso ogni giorno informarvi cari telespettatori Massimo, sei pronto? Il tempo è finito, no? No, sta per entrare Don Walter Inzero ma gradirà anche lui per la prima volta in tv con un brano di James Taylor accompagnato alla chitarra dal nostro chitarrista d'Infieri Lorenzo Massimo Bernardini canta Bravissimo Io la sento qui Perfetto 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Massimo Grazie, grazie, grazie Pidge